Oh, hai sentito di sta serie nuova qua, Game of Thrones? No, non la conosco La serie tratta dei libri, eccetera, eccetera, ambientazione fantasy Sì, vabbè, dai, sarà l'ennesima cagata Ehi, sta gioca Wow, 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 aspetta, aspetta Che c'è? È già cominciato a torbire più bene? Nah No Senti qua La serie in Italia è stata soffietta da numerose critiche a causa delle scene di alto contenuto erotico e nudità Sai cosa vuol dire questo? Te, 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 te Ma questa serie è fighissima, cazzo! Eh, ho finito tutte le puntate, e adesso... ...leggere i libri? Nah, io non ci sono te, ciao! Ah, finalmente ho messo sto cazzo di video a caricare! Eh, voto anche tutto il personaggio preferito di Game of Thrones! Wow, fighissimo! Vabbè, io voto... ...lei, perché ha due tette allucinanti e non si può votare qualcun altro. Tanto sti cazzo di sondaggi poi non si li controlla a me nessuno, quindi... Io non ne sarei tanto sicuro! Ha, 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 ha! Tanto sti cazzo di sondaggi! Tanto sti cazzo di sondaggi!